A proposito di Berlusconi, tu sei stato con lui, l'hai visto nella sua ripresa fisica dopo l'intervento al cuore, come l'hai trovato? Bene, non dimentichiamo che il Presidente ha 80 anni, ne dimostra sicuramente 10 in meno e poi è pieno di entusiasmo. Ma è vero che hai fatto una marcia forzata con lui? No, no, dobbiamo camminare, io al mattino alle 10 lo vado a trovare, facciamo un'ora, a volte tutto questo parco meraviglioso che è Villa Certosa, lui deve camminare e ci vogliono i motivatori, io sono uno dei suoi motivatori per farlo camminare. Ma ti sfianca, è lui che si arriva a vedere. No, no, è un passo enorme, è un passo incredibile, ma già in Kenya, quando siamo stati assieme due settimane in Kenya, il passo del Presidente è molto forte, adesso sta riprendendo molto bene se pensi che un mese fa ero in ospedale, per cui è veramente un fenomeno anche da quel lato lì. Un fenomeno anche di Donald Trump che tu conosci bene? Sicuro, arrivare dove è arrivato lui in America, perché poi America ha buttato giù 16 birilli, mica da ridere, dai Bush, tutta gente che era parte dello stablish politico. E anche lì la gente si è messa a condona perché è uno che non fa politica, è uno che ha fatto successo, è fallito. I nostri politici, ma è parte dello uomo, ma l'America prima di tutto te lo perdona, in Italia se ci scade una cambiare da 1200 euro si è rovinato per tutta la vita, perché è un paese di cattivi, di gelosie. Vedi dei casi che sono, la gente in Italia adora, non vuol fare e adora che vada male a chi fa. Però forse tu parli di una certa fetta, perché il popolo italiano mi sembra più positivo. Io parlo dell'Italia, poi l'Italia c'è dentro anche il popolo. No, non è così, è un paese, abbiamo visto, c'è stato in questi giorni anche questa polemica con Bonolis, quello era privato. Diciamo qual è questa polemica, perché lui ha preso un aereo privato, però con la famiglia, con un certo numero di persone, alla fine il prezzo non era. Non l'ha pagato il governo, perché bisognerebbe vedere gli aerei del governo quando vanno in giro, con chi vanno in giro, prima di parlare di gente che lo paga col suo lavoro. Mentre noi delicotri aerei che vanno in giro a gratis, portando i politici alle feste del bue grasso, della vacca magra, è pieno. Ma è un paese di... c'è molta invidia in questo momento, l'Italia è cambiata. Senti, a proposito invece dei cambiamenti che sono in atto per esempio negli Stati Uniti, tu parli con grande libertà e grande forza anche icastica, diciamo, descrivendo le tue idee, e uno che lo fa in maniera anche eccessiva è Donald Trump. Ma Donald Trump quando apre bocca ci pensa oppure va a ruota libera? Non ci pensa, perché si è arrivato in questo momento, è uno dei due Aranna, no? Per essere Presidente, contro il suo partito, perché il più grande nemico suo è il suo partito. I repubblicani. Che nessuno lo vuole, no? Però lui è riuscito con la forza sua e parlando alla gente in modo normale a crearsi questo successo. Parla la realtà, perché Donald, come già ho detto, il reclinto fallirà mai, perché non lavora, no? Perché è una che ha sempre fatto quel lavoro lì da quando è nata. Beh, ma è stato un ottimo avvocato, ricordiamocelo. Sì, ma gli avvocati non falliscono. Fanno fallire i clienti. Gli avvocati normalmente non falliscono. Sono i clienti che devono pagare parcelle e falliscono. Senti, a Monte Carlo, a Dubai, in Italia, in Costa Smeralda, adesso presto nelle Puglie, ma il tuo aspetto di imprenditore, che cosa ha chiesto come sacrifici da parte tua? Hai avuto certe volte voglia di perdere, di lasciar perdere o no? No, ma io lavoro per hobby, perché non è che cerchi un lavoro. Ho fatto la mia carriera in Formula 1, credo in modo molto soddisfacente, per cui anche molto, molto bene, anche dal punto di vista economico. Se tu c'hai nell'animo di fare l'imprenditore, vuol dire perché lo fai? Sicuramente per creare cose nuove. Ma pensi che quando crei situazioni nuove, crei dei posti di lavoro. In Puglia creeremo 200 posti di lavoro, in Sardena abbiamo 150, in Toscana a Forte dei Marmi un centinaio, Dubai 300 persone, Monte Carlo 250, adesso stiamo a Londra un centinaio. E' tutta gente dai 22 ai 27, 28 anni, per cui la grande soddisfazione, la motivazione è creare nuovi posti di lavoro, perché se no ognuno può dire io vado in vacanza tutto l'anno, posso permetterlo e finita lì. E ti metti in gioco in continuazione, è quello che ti rende anche più vivo, più libero e puoi dire le cose che vuoi, perché non hai debiti, non hai legami politici, non hai mutui, non hai preso soldi a fondo agevolato, per cui puoi dire esattamente quello che vuoi. Io poi non vivo in Italia da 30 anni, per cui non... E vivi a Londra? Vivo oltre a Londra e a Monte Carlo e adesso spendo tempo, una volta, un mese, una settimana a Dubai, una settimana a Londra, adesso a Monte Carlo, qui. Sei sempre un gipsy, insomma. Sono sempre un gipsy, però molto più familiare, per cui... Ti porti a presso almeno moglie e bambino. No, mio figlio è venuto con me a Dubai, Elisabetta lavorava per Made in Sud. Made in Sud, che è stato un grande successo e riprenderà il prossimo anno. Credo di sì, lui è venuto a... Io e mio figlio a Dubai una settimana, è fantastico, no?